Ciao a tutti, mi chiamo Lavini, ho 29 anni e vengo da Vena di Maida, un piccolo paesino in provincia di Catanzaro. Ho conseguito la laurea in scienze dell'amministrazione, però purtroppo ancora sono alla ricerca del mio primo lavoro, quindi sono disoccupata. Era da tanto tempo che volevo migliorare il mio inglese e spulciando su internet sono riuscita a trovare questo corso con Monica e devo dire che mi sono trovata bene sin da subito. Monica è molto chiara, le sue video lezioni, i suoi pdf, le sue live sono meravigliose e mi sta aiutando tanto perché non vedo l'ora di alzarmi la mattina e di seguire le sue lezioni. La ringrazio, spero di poter fare l'esame nel più breve tempo possibile. Vi saluto, ciao!